Silvia Nualcalor, finalmente la prima vittoria della stagione, finalmente il primo bel sorriso sui vostri volti quest'anno. Sì, l'abbiamo tanto cercata questa vittoria e siamo contenti che sia arrivata, anche se alla penultima di campionato, però meglio tardi che mai noi l'abbiamo tanto voluta, ci abbiamo tanto lavorato e finalmente si è riuscita a vincere una partita. Sembra passata un'eternità, invece sono passate solo due settimane da quell'ultimo set contro Bergamo. Cosa è cambiato in voi dopo quella partita? Sicuramente con la partita ci ha fatto pensare e invece di buttarci giù ci ha aiutato a ripartire con una carica in più, perché noi non eravamo quelle, siamo quelle di oggi e quindi era più che altro per onorare tutto il lavoro che stiamo facendo, tutti gli sforzi e sacrifici che stiamo facendo e quindi quel set lì ci ha dato la carica in più per fare ancora meglio. Cosa ti ha dato questa stagione così difficile? Sicuramente da questa stagione ho imparato tanto e sicuramente una cosa che ho imparato è che la squadra è importante proprio dal punto di vista di coesione e oggi si è visto tantissimo anche durante questa stagione, comunque nei momenti di difficoltà siamo sempre state unite, ce l'abbiamo messa tutta, ci sono stati anche dei momenti in cui magari non siamo riusciti a dare il massimo proprio perché non eravamo coese, oggi lo siamo stati tantissimo e quindi ha dato i suoi frutti.